Sacro santo festeggiare sbagliatissimo che la vittoria dell'europeo della nazionale italiana diventi il pretesto per atti di vandalismo e teppismo. Azioni moleste che si sono verificate nella zona compresa fra Viale Fiume e Viale Trieste, dove nella notte fra domenica e lunedì alcuni giovani pesaresi si sono accaniti su cestini dell'immondizia, fioriere, totem di segnaletica stradale e arredi urbani. Una bravata vandalica che però non resterà impunita, perché all'epoca degli smartphone non manca chi immortala l'atto di teppismo, chi lo posta sui social e il risultato della somma è che il video sia arrivato in fretta nelle stanze della polizia locale. Dal comando della polizia municipale hanno già lasciato intendere come siano pronte tre denunce a piede libero per altrettanti giovani identificati attraverso i video. Il reato contestato è quello di danneggiamenti gravi e a questi seguirà una richiesta di risarcimento danni. Va precisato che si è trattato di pochissimi episodi a fronte di centinaia di pesaresi che si sono riversati sul lungomare festeggiando la vittoria azzurra mantenendo le proprie gioie nei confini dei comportamenti civili.